Quante volte ci siamo sentiti dire, molti di noi nella loro infanzia, mangia il pesce che ti fa bene alla memoria. Ebbene, questo detto popolare, la cui origine si perde nella memoria dei tempi, oltre ad essere stato il tormentone preferito di nonne e mamme nella nostra infanzia, ha un fondamento scientifico. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell'Università Americana di Pittsburgh, in uno studio pubblicato qualche anno fa, dove si dimostrava che in persone che consumavano più volte alla settimana pesce al forno o alla griglia, le capacità cognitive miglioravano. Ecco, ora certamente scatteranno i «io te lo avevo detto» dei nostri genitori, ma i ricercatori americani però hanno anche scoperto il perché di tutto questo. I responsabili sarebbero i famosi acidi grassi essenziali, meglio conosciuti da tutti come Omega 3. Ma gli Omega 3, oltre a farci ricordare la lista della spesa senza dover girare per il supermercato con la mappa del tesoro in mano, hanno anche altre proprietà. Questi acidi grassi buoni, cioè sarebbero i grassi che non provocano le malattie cardiovascolari, ma anzi le preservano. Bisogna consumare pesce due o tre volte alla settimana. Possibilmente, se possiamo utilizzare questo pesce, pesce azzurro ricco di Omega 3, è anche meglio. Perché questi Omega 3 hanno tante proprietà in ambito cardiovascolare, ne vorrei ricordare soltanto una. Stabilizzano la placca. Che cosa vuol dire? La terosclerosi, che è quel processo cronico-degenerativo che provoca l'ictus, che provoca l'infarto e le malattie vascolari periferiche, è caratterizzato da questa formazione di placche. I guai arrivano quando queste placche all'improvviso si ulcerano, si fessurano. Su questa placca si instaura un meccanismo acuto di trombosi e il vaso si chiude. Gli Omega 3 aiutano a stabilizzare la placca, cioè a impedire che queste placche si possano rompere. Si parlerà di questo e del rapporto tra cibo e salute nel convegno pubblico organizzato dai produttori pesca di Fano, Marotta e Senigallia, per promuovere l'uso consapevole del pesce pescato in modo sostenibile. L'iniziativa ha come titolo pesce salute, ma potremmo anche dire sano come un pesce. Noi tentiamo con queste iniziative, a quale partecipano esperti, tecnici, ci diranno quali sono le qualità del pesce. Abbiamo inoltre anche biologi che ognuno dalla propria visione del mondo della pesca ci diranno quali sono le qualità del pesce e perché consumare pesce. Un'altra cosa sulla quale voi spesso vi sottolineate è anche la stagionalità, il rispetto della stagionalità. Conoscere la stagione del pesce significa acquistare un pesce di stagione, quindi un pesce che è maturo in quella stagione, ma soprattutto risparmiare. Grazie. 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 Grazie.